Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video haul, ho qui vicino a me due magnifici pacchi arrivati questa settimana di filati di scout, un sacco di filati che voglio scoprire con voi, alcuni non sono scoperte ma sono meraviglie, meraviglie che già esistevano sul sito e ho preso qualcosa per fare dei maglioni, qualcosa di più caldo, ho riscoperto di nuovo lo zefiro e niente, vediamo che cosa ho preso. Allora, primo pacchetto che ho voluto scoprire è l'arletchino ho preso il pacco da 500 grammi perché conveniva a solo 25,50 quindi in offerta da 34 ed è un filato che mi ha sempre incuriosito. Allora, io ho scelto questo colore blu che è praticamente il color jeans, se andate a vedere sul sito vedete tutte le sfumature, è un filato da 50 grammi, è morbidissimo ed è un filato in alpaca, un misto alpaca con un inserto in fettuccia stampata lucida, 15 per cento di alpaca, 15 per cento di acrilico, 42 di poliammide e poi 28 di poliestre ed è bellissimo perché ha proprio questa sfumatura. Avevo visto un tutorial di Luana, tanto per cambiare, perci riflessi e faceva un bellissimo cardigan caldo che insomma con questo blu mi ha fatto innamorare. Quindi da 500 speriamo riesca a farlo un po' lunghino perché io sono abbastanza alta però è un filato morbidissimo. Ok, questo è stato il primo acquisto. Poi, secondo acquisto. Questo intanto mi incuriosiva per la sua versatilità perché ha anche questo spessore, voglio proprio vederlo come si comporta e mi ha incuriosito. Allora, preso il ciprian, ne ho presi altri tre di queste confezioni perché ho fatto un cardigan che sicuramente avete visto nei lavori che ho pubblicato qualche giorno fa ed è bellissimo. Ho preso di nuovo il cip perché voglio farmi un cardigan con le maniche lunghe, sempre sullo stesso stile, un po' liger, sottoveste, ecco, così chiamato. E lo voglio fare a maniche lunghe, l'avete visto? L'avevo fatto a maniche corte, mi è piaciuto tantissimo per la morbidezza, la versabilità, come si sente sulla pelle, per questa lucidità e questo inserto. Allora, lo zeffiro ho voluto provare anche a prendere il color azzurro. In realtà è il blu questo e ha questi inserti bellissimi, guardate che meraviglia, proviamo a spegnere e vedere se coglie meglio, coglie poco perché oggi è anche nuvoloso, ecco, lasciamolo così ed è bellissimo. Qua c'è degli inserti blu, voi non li vedete ma brillano da morire, vediamo se riesco a farvelo vedere, non riuscirò, ma magari vi faccio qualche campione da vicino, lo lavoriamo da vicino e quindi ho preso l'azzurro perché volevo trovarlo, poi ho preso, vabbè, quattro gomiti, le abbiamo detto, di cipria perché voglio farmi l'altro, voglio farmi un cardigan lungo, poi ho preso anche il nero se non sbaglio, eccolo qua, ma anche questo, spettacolare, questo magari fare anche qualche coprispalle o solo un cardigan, cioè io li ho trovati bellissimi, infatti poi nell'altro ho preso anche il giallo che vi farò poi vedere. Lo Zeffi in un filato meraviglioso, sottilissimo, mi piace tantissimo, andiamo a vedere le sue caratteristiche anche se ve le avevo già dette l'altra volta, vabbè, Luana ne parla tantissimo, lo Zeffi è un filato stupendo, stupendo, che non può mancare nella vostra, è un filato in rocca con 54% di cotone, quindi al tatto morbidissimo e il 36% di viscose e solo il 10% di poliamide, va lavorato con i ferri 3 o 4 e l'uncinetto 3 o 4. Poi andiamo al filato scopertona del momento, vediamo se vi faccio vedere, avrete visto che l'ho già lavorato ed è il preziosa, il preziosa è un filato che mi ha sconvolto, guardate la lucentezza di questo sfilato, allora avrete visto nell'altro video che avevo appunto cominciato questo bellissimo chalet che è appena all'inizio, però guardate l'effetto del preziosa oro, che è questo, ho preso anche l'argento e sicuramente prenderò anche il nero, preziosa oro orrende, cosa mi piace del preziosa? Allora andiamo un po' a vedere, allora intanto ha della lana, quindi al tatto è di un caldo sottile, morbidissimo, a chi non piace troppo quella lana spessa, comunque anche solo per l'idea di metterlo sul collo e prezioso, intanto sono rocche da 200 grammi e l'argento è meraviglioso, ma anche l'oro, allora abbiamo poliestere, acrico, poliammide, 3% di viscosa, 3% di lana, principalmente 56% in poliestere e poi va lavorato con l'uncinetto 2,5, la caratteristica di questo filato è data dalla lucentezza della viscosa, ve lo consiglio, lei proponeva appunto questo chalet traforato così con un altro filato che ho preso comunque, ma io ho voluto provare col preziosa, ci regala capi gioiello, capi da venimento bellissimi, immaginate anche un cardigan per Natale con uno di questi due meravigliosi colori, e niente, strepitoso, a dire veramente poco, l'ho adorati, prenderò anche il nero, grazie Luana per queste scoperte, secondo me è adattissimo per coprispalle, cardigan, cioè l'effetto di un'eleganza pazzesca, guardate che bello l'effetto, è lavorato, è meraviglioso, è caldo al tatto, sottile, non da noia, stupendo. Poi andiamo avanti, ho voluto prendere questo filato, tanto per cambiare blu, che è il luminoso, luminoso sì, avevo già preso l'acqua mi sembra di questo colore, no, forse non avevo preso ancora niente del luminoso, l'urex, esatto, questo è il royal ed è questo colore bellissimo, voi lo vedete un po' più acceso ma è un po' più sul blu scuro, e il luminoso è anche un bel filato, è un po' più spesso, quindi anche questo pensavo un cardigan, poi questo l'urex che ricorda gli anni settanta, va tantissimo, e niente, poi proviamo a fare qualcosa insieme, così vediamo. poi ho preso quest'altro filato qui che non ricordo che cos'è, ed è il, ah prezioso, ho preso l'argento, ma ne ho presi due praticamente, sì, 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 ne ho presi due, perché con questo volevo fare un cardigan, quindi mi sono lanciata, ebbene sì, ok, questo primo pacco è andato, andiamo a vedere il secondo, sono emozionatissima, però avevo voglia prima di cominciare a lavorarli, perché se no questa settimana partivo di farveli vedere, quindi il secondo ordine, allora, il filato praticamente con il quale lei eseguiva questo tipo di lavorazione è questo, ed è il gilli, eccolo qua, il gilli fucsia, che è questo filato un po' particolare, lo vedete bene nel tutorial, che tra l'altro ve lo lascio qua sotto, ve l'avevo lasciato già nell'altro video, e vedete che il filato diventa sottile, grande, arricciato, è particolarmente bello, perché infatti questo shawl che sto facendo, voglio farlo anche col prezioso da regalare a Natale, sono già due persone che adorano questo genere di colore, questo magenta, come definiva lei anche un po' colore della ciliegia, o comunque delle more, con lei lo paragonava alle more, infatti di questo ne ho presi tre gomitoloni del preziosa, allora il gilli, abbiamo detto scusate, mi confondo, il gilli, che viene 2,13 euro, ed è un filato da 100 grammi, è in offerta tra l'altro in questi giorni, è un filato frisè, veramente con struttura irregolare, è molto fashion, questo per un cardigan a stile Missoni, lo vedo benissimo, c'è il 18% di lana, no scusate, il 12% di lana e il 18% di nano, il resto è acrilico, ma comunque è una sensazione bellissima, morbidissima, calore, senz'altro l'altro ha molto più calore sulla pelle, ma mi piace, ha questa componente ondulata, ecco vedete il tutorial battus, eccolo qua, cerco di farvi vedere, eccolo qua, lo vedete, vi metto comunque il link, perché oggi non riusciamo con questo temporale a farvi vedere troppo bene le cose, e niente, comunque il battus era questo, per vederlo leggermente, allora vediamo cos'altro preso, allora, ho preso uno, due, tre, quattro di questi gomitoli, Atena, 100% silk, c'è proprio un filato in seta, bellissimo, questo volevo farmi qualcosa per me, ed è un filato da 50 grammi, mi hanno preso da 200, perché anche lei proponeva, è bellissimo questo colore, qua c'è della seta dentro, volevo anche provare lui, perché ero curiosa anche di provare un filato con la seta, poi andiamo ancora, A2, Zephilo, esatto, il Lilla, guardate le sfumature, è il giallo, ve lo metto qui, così riuscite a vederlo, sono bellissimi, adesso poi datemi qualche idea, perché io ho idea di questi cadi, di questi scialli molto grandi da regalare per Natale, che possono poi usare nella prossima estate, anche come coprispalle, e mi piaceva l'idea, poi ho preso il, questo è andata pesante, il positano, ne ho presi, vabbè non ve li faccio vedere tutti, comunque ne ho presi sei, il positano, allora il positano è un filato in cotone molto ritorto, molto 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 bello, perché lei aveva proposto questo cardigan, io ho preso il positano acquamarina, vengono un euro e 96 per ogni piccolo gomitolo da 50, ne ho presi sei, e lei proponeva questo cardigan, questo cardigan bellissimo, e diceva che è il compagno ideale di mezza stagione, e ho preso questo acquamarina, ho preso 300, sì ne ho presi qua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sì 300, speriamo di riuscire a farlo, al massimo ne otteniamo altri. Allora il positano è un composto di 70% di cotone e solamente 5% di poliestere e poi altre fibre, ha una sensazione di morbidezza, leggerezza, bello, molto molto bello da lavorare. Per le prime brezze primaverile, fresche autunnali, wow, un'unione sensuale e funzionale, raccoppimento di cotone e poliestere, assicura un capo duraturo, resistente, con l'aggiunta di altre fibre da un topo di originalità, sì sì sì, 120 metri di lunghezza da lavorare con l'uncinetto, 3, 4, 5, bellissimo, un po' questo colore, mi ricorda la mia borsa, la mia borsa, tra l'altro andate a vedere il tutorial, poi qua c'è ancora un gomitro dietro a 4, ne ho presi, mettiamo qui insieme alle altri, allora ho preso due matasse che mi incuriosivano di questo filato che si chiama super neve e super neve, questo colore qui mi incuriosiva, allora il super nevis da 100 grammi, queste matasse che penso che andrò a farmi il gomitolo e anche queste mi sarebbe piaciuto farne un cardigan, il super neve, vediamo, allora il super neve, sì è una matassa meravigliosa, scusate, non me lo dà, comunque è un cotone molto fresco, mi piacevo questa lucentesia dell'Urex, volevo farmi una maglia proprio anni 70 aderente con le maniche lunghe, classica, normale, perché questi colori sono strabilianti, c'è del rosso, c'è del, vorrei che bello che è, non sono stupendi, mi riesono un sacco, allora, poi non è finita, vabbè, vi faccio vedere il regalo, cosa mi hanno regalato, questa matassona da lavorare per farci, penso, dei tappeti, con un uncinetone grandissimo e ci proveremo, mi fa ridere perché sono sommersa dai filati, allora, finiamo, perché questo nasce per essere accoppiato appunto all'Athena, ed è un filato lucidissimo, ed è il, lo spark, spark l'Urex argento, questo è da 100 grammi, questo volevo abbinarlo all'Athena, granata, per farci una sciarpa per Natale, a questo, voi non lo vedete, c'è dei micro glitter brillantinati dentro, ed è strabiliante, anche questo, ve lo metto vicino all'argento, sono differenti, uno più di lana, uno un po' più sintetico, più sottile, ma comunque spettacolari, se poi vi faccio vedere, lei lo proponeva, e poi finiamo, ho preso quattro gomitoli di questo curiosissimo Matera, ve li metto qua così, allora è questo colore petalo, giusto? Sì, petalo, ma vi metto qua sotto i link di tutti i filati, così potete poi trovarli se c'è qualcosa che mi incuriosisce, ne ho presi quattro da 50 grammi, allora il Matera, lei proponeva un bellissimo, anche qui coprispalle, bellissimo, che mi ha incuriosito tantissimo, allora il Matera, praticamente, è un cotone caldo, vogliamo chiamarlo, questo in realtà è il color glicine, sì, è il glicine, scusate, è un po' più rosa cipria che è glicine, qua lo sì, lo spaccio come glicine, sì, 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 però io direi che mi piace, cioè è pazzesco, perché è un cotone, faccio vedere così, riuscite a vedere che ha questi inserti pazzeschi in mezzo? Non so se riuscite a vederlo, allora il Matera, allora permette di fare dei lavori con dei punti molto semplici, ma che allo stesso tempo aggiungo un tocco speciale, perché da un misto cotone a 85%, quindi tantissimo cotone e un poliestere, presenta queste caramelline in rilievo, qua le vedete, ecco, così le vedete, sono... Ecco, lei faceva questo scialle meraviglioso, adesso ve lo faccio vedere abbassando tutte le luci, e avevo questo scialle stupendo, è partito un video, scusate, sì, è partito un video, questo croquet è partito tutto, se non siete dei passiccioni non guardate i miei video, presento la borsa Prada e dico Praga, presento il filato Matera e dico... Va bene, va bene, allora questo è tutto per oggi, sono strabiliata soprattutto dallo zefino, curiosissima di utilizzarlo e di cominciare qualche maglioncino caldo caldo con questo filato qui, bellissimo, mamma mia, l'arlecchino jeans con l'alpaca, non vedo l'ora, non vedo l'ora, vi aspetto quindi prestissimo con un altro video e se volete qualche tutorial lo facciamo se vi va di vedermi lavorare, pasticciare, vi mando un bacio, vi aspetto prestissimo e grazie, grazie della vostra fedeltà, grazie a tutti, ciao, ciao! 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 Ciao!